Ciao ragazzi, io è Faruccio, oggi siamo qui con Nino, Luigi e Kirli e Luca sul Reno, facciamo un due di due. Allora, però non dobbiamo fare casino, perché se fate casino io vi faccio il pino. Non si non, qui, że Kirli e Girl. No, 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 non si può fare, nino, che stai sottottene su PC, che cosa ne stati lasciano. minore che siamo dove c'è ai 200 di pina di non lo so nino non smutati no 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 ma io sento a nino perché dice tutte le cose che fate no 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 è il brutto anche perché lui e con lui c'è non è che parla troppissima e io la faccio i video quando stavamo in anni quattro per parlare ma io non ho capito la connessione che cacca fa eh no la tua connessione è ai 700 di bingo e poi vai bene sono oggi la città che è successo no niente pensavo una cosa brutta la cosa dai non ho mai niente no Mario pensavo che mi hanno portato l'impostazione di me e tu puoi abbattare la città vabbè come te le rimettevo ma sei arrivato prima dove io ma quali sono le impostazioni di Mario? non ho capito no e poi non c'è bene è una carattina di venticibilità alta e c'è no non lo devi mettere proprio ma stasera di me sono impegnato a varietà io ho capito se stavo ricordando a mio figlio io ho capito allora io ho capito io ho capito e poi ho capito Sono L'ultimo round ho fatto lo strongo e quindi E' l'esimale Ho colpito un sacconino Se mi dici in quale punto Eh l'ho visto E' impossibile E' una cosa che vi è visto E' un po' di giudizia E' un po' di giudizia Mi ho ricciuto un po' di giudizia E' un po' di giudizia Nooo Mi ha pushato Cioè Guarda a sinistra Cioè Guarda a sinistra Ma come Ma che quando c'è quella telecamera Da sempre Non è vero C'è mai stata con la telecamera No ma è una telecamera portatile Vuole che si piazzino E chi è che c'ha Luca ti ricordi questo Cosa Ma è la tua Però vabbè Non mettere clash Non mettere clash Non mettere clash Vabbè ormai Se il murio era un problema Vabbè No Vabbè Saranno Vabbè Ci sono inciosa Questi best Tipo allora tipo di C'è un paura Cos'è il cielo Troppo Gta Lesion Ma che troppo Gta Si Si Sono Lesion Lesion Un altro Lesion Luca Siamo Tu sei a paura Ti Vieni questo Cattolo Vieni se la scattura Ehm ogni tanto Allora Dino Io non pretiti devo andare sinceramente Musiamo anche tentare l'approccio di merda questo no la cattiva 5 approssimo di merda a presi a 1 di vita fa 1 di vita a 1.1 con quello che non trova bene ma se tu glielo dici se è un genio ma già lo sappiamo non è meglio non sapete il valore a sinistra l'uomo ok andiamo a fare tanto quello sopra quindi si vede se sponchino si viene da dito no e quindi non è il mio tutto zero vai corri corri perché il mio tutto zero allora sono tornato a corrida non c'è giù ma me una ferrari con lì porto a casa in gioco.it un calabrone in calore forco demonio e vabbè gg bello se si sa di scala nooo nooo ma guarda che è un maggiore pesante io eh? è perchè lì ti provo con la cosa che gg ti senti nel minuto sulla pezzone si va bene così ma come si faceva a sciccare a sciccare 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 e sono andato lì concerti dove stiamo andando? oh certo ora mi ha diverso la mia prestazione da Gimbo con che ragazzi? c'è una stagione ragazzi sta per arrivare la stagione 2 il primo episodio della stagione 2 del criminale ed è un po' particolare sinceramente mi sta piacendo sta per arrivare speriamo che non sono del garage non mi voglio dare una spoiler sto facendo un attimo sto facendo un attimo sto facendo un attimo il... maestrino vabbè raga io sto facendo un attimo il... Alessandro Borghino ma io sto parlando però mi sentite? chi ne è? si si ci sta parlando no uno no uno ce n'è altri due si 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 non piazzare nessuna non piazzare nessuna non piazzare nessuna lì all'individuare così non sanno dove sta capito nessuno qui no 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 eh lo sapevo ma quanto mi dai eh Luca non è che le ho proprio tanto Mario ci è morita? eh si no no è vero l'ho colpito l'ho colpito l'ho colpito lui l'ho colpito vieni aiutate l'ho colpito l'ho colpito l'ho colpito l'ho colpito l'ho colpito corri 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 lui ma dove sei? ma no lui non sta qua sta sul disinescatore sta su il disinescatore si non è l'obiettivo forse non più ma torna da Mario torna da Mario sei tu disinescatore torna torna da Mario torna da Mario ecco qua per mettermi dal camioncino scendi scendi copri più il garage aspetta un po' di nuovo allora lui è stato il mio cadavere c'era il mio disinnescatore non può essere un po' di sin non andare da qua, vai avanti, vai avanti a destra sta lì, sta a destra, sta a destra, sta a destra sta a dire il camioncino ma io Luca l'ho uccido sempre, poi c'è il Nino ti metti sempre in mezzo no, non è scarsa no, non è scarsa però Benito non fa ballo Luca, io non voglio provare un sacco ma come! io cosa non ho male è che scarsa il senso non mi ha spirituito adatto ma anche se piambino sotto, insomma è una cosa non ho bled ogni neder ma avete messo ma avete messo o o doc va bene ecco le quasi stanno in garage oltre a do do non voglio spocchillare sto mettendo solo il filo spinato non è che se ti lascio la sole se ti lascio la sole se ti lascio la sole vengono da te me lo devi dire è semplice lui ma siamo comunque in un video uno sta inside uno sta forse uno sta per spocchillare abbiamo l'entrata della l'entrata della l'entrata vieni con me hanno rotto la sanna nella garage hanno rotto la candola vieni con me proviamo questo approccio approccio anche se è molto difficile ci sono campanellato un po' però mandiamo la garage vai da fogno lui e tu si si vai da fogno vai da fogno vai da fogno non ha capito dove siamo lui è capito tu vieni con la porta di merda ah 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 ma non ha capito bravo se ti sei fatto tante cose che non capisco che mi sei drogata una volta in mezzo del frutto una volta in mezzo del frutto oggi sta facendo il bravo ecco no no facciamo anche così mi piace questa testa hai capito che cosa è questo operatore come sto io si si lo so stanno giù i fattori ma non lo potete provare prima non lo so la scatola, la testa di nooo ecco ecco lui 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 ecco sono su Luca e vai su vabbè sono su uno è mozzi mozzi sarà nino nino il video ma che poi è scritto si ha finito la classifica che era invenzione vabbè lo hai dominato ma poi non ce l'ho mai come oggi c'è figura ah vabbè 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 ok allora avete già sbagliato che te l'ho detto non ti preoccupare copriti ok spara l'igresso chi non può più fare niente oh vabbè 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 vendenti sono tutte due qui fra sono tutte due qui la faria si non le prendono di m o dubito non so che cosa fanno non ti occupare sono no nino 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 copro io qua copro io ah no è salita nino copri la finestra io ho capito la scena lanciano un flashback ma anche Gesù flashback ma che sempre flashback non ho mai e per cosa dindi il flashback no lo capito lo capito ok allora lo dico nino 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 pochissima vita l'ultimo dove sta da qua sempre lui c'è il disinesco deve andare sul disinescatore a prenderlo e non puoi fare niente a parte ma dove l'ho inciso Mario sulla scala sulla scala lui lo capito e ma c'è il disinescatore dai lui però che mi no no vabbè ma ti ha sparato dai nino sei zitto ma l'ho detto nino no l'ho detto nino no nino nino c'è il cappurilato non puoi dire nino nino c'è il cappurilato e nino nino vabbè nino nino non puoi dire nino vabbè nino nino non puoi dire i cvisto e il cappurilato puntato si vede nino dove mi rimi tipo quello di GTA Nino ma si vede Ehm mettono lì No ma c'è il video Luca venilo a vedere pure tu dopo in video Vedi se non ha il cosa mirato Cioè quello mirato a caso E lo mirato sul Sul giocatore Ma Nina ma comunque gli abbiamo notato Ma ci c'ha le carie Le carie Anche senza le carie Andami in garage Stanno lì in garage E vabbè Io lo so proprio perché vabbè Stanno i garage sono fottili Dai Eh io sai chi ho Nel tuo blackbird Nel tuo sfondo Ah quindi sta in cielo Nel tuo blackbird Nel tuo sfondo Nel tuo blackbird Nel tuo blackbird Nel caso ce l'hai Io con il tuo blackbird lo faccio ridurre In un po' sì Eh Nina ma Fa tanto a vedere Ah no c'è cavera Probabilmente c'è andata a mia testa Frost di merda Ah ok quindi l'altro se c'è andata a mia testa Se non mi vedono No è cavera l'altro Solo che Ecco là C'è cance Ma è secondo Distruggo il coso Puoi in qualche modo Profficio che andavi sotto la poltrona Luca Ehm ma Luca Si era messo sotto la poltrona Mentre tu pensi a sparare Noi siamo già dentro Si che vuoi mettere già dentro Si Nino tu spacca Che nino c'è Tieni C'è cento per cento Ma guarda Sei primo c'è l'uva che sta sulle finestre fra spiderman come cazzo no è possibile solo io io con la calma di seconda da l'alba che avrà il disini a scopere di ruota 2? vabbè noi lasciamo un decantaggio e lo faccio pure facciamo il mio metodo vieni con me dove stanno? mi sono mai fatto nessuno l'ha mai fatto nessuno che figato se voglio giocare the forest no cazzo eh vabbè ma mi ha ucciso tu 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 sei Nino ma ti rendi conto ah ma ti stai facendo il mio ma ti stai facendo il mio ma ero su un cavo cosa che va a essere lui sono lontano e ora c'hanno pure scavare eh lui ha detto ma secondo me si sta ancora alla finestra Nino ahahah ma nonpiece ma no 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 che ho paura ma che paura Nino. ultimo round ultimo round no no questo è l'ultimo round chi vince vince dica il video comunque questo è l'ultimo round del video anche perchè tre minuti al round non so non lo so non lo so addirittura ma dai secondo me dai però nel luca si è messo sicuramente un'altra volta blackbeard è che tu lo metti tu usavi sempre mi fostevi sempre jackal no non ti puoi mettere jackal lo metto in pubblica eh vabbè così me fotti eh vabbè vabbè soniceo ha una taccante che Mario e l'altro tu vabbè sonno di rush fai la taccata di luca ma 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 basta individuarli ue vai a ue vai a guarda che ti ue vai a un mitraglio vabbè mi ha detto che io ho venuto veramente è la tua taccata è un cammino luca vaffan è vigile stiamo per rompere tra l'altro è vigile va in giro a fare mi ha aveva taccato l'altro non c'è mai dai lucchi sono da garage e che hanno rotto la carne da garage e ma hanno rotto la carne di garage ah! perché la finestra c'è la carne si 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 erano le finestre ho visto che Nino saliva sul tetto ho visto una acce saliva sul tetto no anzi no Sì, vieni con me Nino vieni con me ho visto via ho visto qua No, 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 no tu, 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 tu tu, 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 tu tu, tu, cadi dal cielo cade dal cielo cade dal cielo cade alle nuvole conto smirato si dove sta Nino? ma il manino vabbè l'altro è clash lino stavanti sinistra non 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 abbiamo una possibilità di vittoria rimani sul disinnescatore di ma intorno indietro continuo a tornare indietro mettiti all'angolo mettiti all'angolo mettiti all'angolo se no ti puoi sparare luigi ti devi mettere all'angolo se vai a prenderli vai 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 non senta che lo spari mentre disinnesca lo spari non tirarti vai 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 sali lui sali con la scudo vai 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 e vabbè ti devi muovi no perché ti metti nell'angolo nino però si vedi che non sei anche tu nino non metterti nell'angolo no vai 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 ma perché stai così? ma perché stai così? Gigi ragazzi quanto forse non puoi mettere Nino è più forte di tutti Nino non ti sa ti 1 ma cosa easy che siamo 4 a 3 Anilo sei zitto ma poi non sai proprio vincere non sei mai come lì abbiamo così no no ragazzi bella win ma come la fata cazzo bella win 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 ciao ciao